Il cammino delle donne è fatto di storie esemplari, di scelte coraggiose, di spinte importanti verso il cambiamento. Le questioni che affrontano sono di utilità in tutto il mondo, con la richiesta di ridefinire i processi per la pace, l'eguaglianza e lo sviluppo. Mi chiamo Awa e sono nata in Italia, in una famiglia proveniente dal Senegal. A Torino, dove vivo e studio, sono parte di una minoranza, anche piuttosto visibile. Le persone immigrate dall'Africa in Piemonte sono un quarto di tutti gli immigrati. Solo il 10% di loro arriva dall'area subsahariana. Le donne hanno affrontato la migrazione, soprattutto per motivi familiari. Qui lavorano, molte sono imprenditrici e hanno potuto formarsi per migliorare le loro competenze. A Torino, le donne della diaspora africana hanno da sempre cercato uno spazio di partecipazione attiva alla vita della città. La nostra storia inizia di qui. Ci sono pausa inizia di qui.